Buona giornata amici, ben trovati alla rassegna stampa di Fano TV, oggi è sabato 3 agosto 2024, ci dispiace aver saltato la prima edizione della nostra rassegna stampa, purtroppo anche oggi i giornali sono arrivati tardi in edicola, si dice che è colpa, colpa, insomma la causa è quella del resto del Carlino, ma non si capisce perché se un giornale tarda tutti gli altri devono tardare, insomma, e questo è un po' quello che gli edicolanti chiedono, insomma, una maggiore puntualità per quanto riguarda la consegna, per quanto riguarda la distribuzione dei quotidiani. Ebbene, noi siamo stati costretti oggi a saltare la nostra prima edizione delle ore 7, comunque procediamo ugualmente con la nostra rassegna stampa. Vediamo subito qual è il santo del giorno, partendo dall'almanacco, ed eccolo, è Santa Spreno di Napoli. Santa Spreno visse tra il primo e il secondo secolo, fu un uomo miracolato da San Pietro. A San Pietro in quel momento stava dirigendosi verso Roma, si fermò a Napoli e lì fondò una comunità cristiana. A Spreno fu miracolato da San Pietro dopo una grave malattia e fu il primo vescovo di Napoli sotto gli imperatori Traiano e Adriano. E secondo la tradizione anche lui guarì molti malati ed è invocato ancora oggi specialmente da coloro che soffrono di mal di testa. Sono tante ancora le persone che hanno questo male, questo male che magari diventa un male che li accompagna per diversi anni durante la loro vita, magari una preghiera a Santa Spreno, chissà, che non compi anche lui un nuovo miracolo. Vabbè, confidiamo in lui. E allora, detto questo, passiamo alle previsioni del tempo. Ed ecco la grafica. Oggi abbiamo una novità. Abbiamo una novità che potrebbe, diciamo così, potrebbe interessare coloro che vogliono un pochino più di fresco. Oggi le previsioni indicano un tempo variabile sulla regione con sole al mattino e temporali di calore in formazione al pomeriggio su gran parte del territorio. Quindi il tempo dovrebbe guastarsi, detto in parole povere, durante il pomeriggio. Dovrebbero arrivare i nuvoloni, dovrebbe arrivare anche la pioggia. I venti sulle coste espireranno con una tensione media da est e sud-est. Sull'interno, da sud, le temperature 21 la minima, 38 la massima, con punte di 38 ma con medie leggermente inferiori. E poi abbiamo il sole. Il sole è sorto alle 5.57 e tramonterà alle 20.30. E allora apriamo il giornale. Oggi partiamo dal resto del Carlino, dove vediamo l'apertura che è dedicata a una novità che è stata illustrata ieri dall'amministrazione comunale in conferenza stampa nella Sala della Concordia. Ebbene, vi ricordate le polemiche sorte dopo la realizzazione della pista ciclabile in viale Dante Alighieri, che ha sottratto i parcheggi sul lato monte della strada? Ebbene, oggi la nuova giunta ha ripristinato alcuni parcheggi. Si tratta di 14 posti macchina che troveranno posto tra il marciapiede e la pista ciclabile. Questo comporterà l'abbattimento di 6 o 7 piopi, le cui radici molto superficiali potrebbero costituire un pericolo per i passanti. Ebbene, l'abbattimento degli alberi crea sempre delle polemiche, ma in questo caso anche i rappresentanti di categoria approvano questo progetto. Vediamo anche le dichiarazioni di Barbara Marcolini, presidente della Confcommercio, e la soddisfazione di Andrea Giuliani, della Confartigianato. Ebbene, il progetto, illustrato ieri dal sindaco Luca Serfilippi e dall'assessore ai lavori pubblici Gianluca Ilari, mostra una nuova pavimentazione fatta con dei traforati, in modo che il terreno sia permeabile, vicino alle case. Ebbene, qui lì sarà il marciapiede. Poi ci saranno i posti auto. I posti auto tra gli alberi, quindi verranno ricoverati dei posti per la sosta. E poi c'è la pista ciclabile che rimarrà così com'è, così come la carreggiata. Un investimento questo di 450 mila euro, di cui 300 mila verranno dati dalla Regione Marche dopo che l'amministrazione comunale parteciperà a un bando finalizzato appunto alla ristrutturazione delle vie. Un intervento questo che viene considerato, che è stato poi concertato con il tavolo economico e anche con i rappresentanti dei residenti della zona. E non si sa poi che fine faranno i parcheggi presi in affitto su Viale Gentili e da Fabriano. La Giunta valuterà il loro risultato alla fine della stagione estiva, insomma alla fine di settembre. Questo per quanto riguarda le novità che si profilano per il lungomare. Lungomare, siamo nella zona di Sassonia, in Viale Dante Alighieri. E poi oggi dobbiamo riferire di un lutto. Diamo l'addio a Oscardo Ferde Severi. È deceduto all'età di 76 anni. Era un imprenditore, il rappresentante della SEA Group, una società che si occupa della sicurezza sul lavoro, della sicurezza sanitaria, soprattutto anche dell'ambiente e dei rifiuti. Si è spento a 76 anni. Il fanese Oscardo Severi era nato a Fossombrone, vinto da una malattia che ne aveva da tempo provato il corpo, ma non lo spirito, perché lo spirito di Oscardo era sempre uno spirito propositivo, vitale. Pensava al futuro anche pochi giorni prima del suo decesso. È lui che ha dato vita al premio Carton Sea, un premio di grafica umoristica, che con la satira, con il divertimento, però accentrava l'attenzione su problemi contingenti, come quello della sicurezza sul lavoro. Pensate a quante persone muoiono ogni giorno per problemi che nascono sul lavoro. E poi anche i problemi ambientali, i problemi del consumo delle energie. Ebbene, era un perito chimico che ha lavorato a lungo nel laboratorio igiene e profilassi in provincia e poi ha costituito questa azienda che prima si è fermata a livello locale, poi a livello regionale, quindi a livello nazionale. Dal 1989 aveva creato lo studio ecologico associato SEA. Nel tempo libero però si dedicava alla sua grande passione, che era quella dei motori, è stato presidente del motoclub Lucio Ricci, una presidenza che ha condiviso con Paolo Vicini, anche lui scomparso. Ebbene, per la morte di Oscardo Severi ha espresso il suo cordoglio anche il sindaco Luca Serfilippi, che lo ha definito un pioniere. Ha promosso una riflessione profonda su temi cruciali come i diritti e le disuguaglianze attraverso appunto Carton Sea. E vediamo che oggi, così come ci informa anche il Corriere Adriatico, si terranno i funerali, si terrà l'addio ad Alberto Fiorani, il 51enne fanese che è deceduto in seguito ad un incidente stradale che si è verificato sull'Adriatica Nord tra Fano e Fosso Seiore. Era in sella alla sua motocicletta con il figlio nel sedile posteriore. Purtroppo si è scontrato con un'auto che lo precedeva e purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Invece il figlio per fortuna si è salvato e proprio per consentirgli di partecipare al funerale. Quest'ultimo è stato ritardato perché l'incidente è avvenuto pochi giorni fa e i funerali si terranno questa mattina alle 10 nella chiesa di San Paolo al Vallato e poi la salma sarà tumulata a San Giovanni in Marignano. Vediamo le altre notizie. Una notizia di cronaca che viene evidenziata in apertura sul Corriere Adriatico ma la vediamo anche con grande evidenza sul resto del Carlino picchiato e rapinato da due mascherati. Racconto sciocchi di un artista fanese 52enne e quando si dice che la situazione dell'ordine pubblico a Fano è peggiorata lo troviamo con grande evidenza quasi tutti i giorni sui giornali per quanto riguarda risse, aggressioni, accoltellamenti. Ebbene questo è un fatto veramente singolare, un fatto che però fa riflettere, un fatto da arancia meccanica. È accaduto a San Lazzaro domenica sera. Un uomo, un fanese di 52 anni, ha raccontato di essere stato picchiato sotto la minaccia di un coltello ed è rubato di tutto quello che aveva. Si tratta di tre borse con cose di non grande valore all'interno ma insomma è stato picchiato con violenza per sottrargli quello che aveva con sé. È una violenza inaudita quella che ha subito e subito denunciato alla forza, alle forze di polizia che ora indagano sull'accaduto e stanno soprattutto visionando i video delle telecamere che sono state posizionate in zona. Dicevo sono state sottratte tre borse, tutta roba di poco valore, spiega lui stesso. Insomma c'era anche un braccialettino d'argento a cui era legato qualche oggetto affettivo e il portafoglio con tutti i documenti. Insomma veramente un fatto molto molto grave non tanto per il valore sottratto ma quanto per la violenza con cui è stato perpetrato. E poi i giornali questa mattina riportano anche il consuntivo all'esito della riunione che si è svolta l'altra sera a Metauriglia. L'amministrazione Comunale ha incontrato i residenti per recepire da loro tutte le richieste inerenti all'impiego di quelle risorse che è terna la società che sta realizzando l'Adriatic Link, quell'elettrodotto sotterraneo che dovrebbe collegare poi anche via mare appunto a Metauriglia, c'è l'innesto tra l'elettrodotto di terra e quello di amare, le marche con l'Abruzzo. Adriatic Link intitola il resto del Carlino rivolta di Metauriglia residenti all'assalto. Soprattutto sono state evidenziate le proteste di coloro che vedono passare l'Adriatic Link, questo elettrodotto, in prossimità dei loro terreni il che comporta una zona di rispetto che appunto sconfina con i terreni in proprietà. E questo destra delle proteste perché poi insomma questi terreni diminuiscono di valore, non si riescono a commercializzare e via dicendo. Ma l'intento dell'amministrazione comunale era un altro, era quello appunto di chiedere ai cittadini come volessero impiegare quei soldi che Terna aveva messo a disposizione. I cittadini hanno ribadito le loro richieste, vogliono una maggiore tutela per quanto riguarda la viabilità della statale Adriatica Sud e hanno proposto anche la realizzazione di due rotatorie, una a Metauriglia e una a Tombaccia. E poi c'è la questione dell'autovelox, quell'autovelox che è stato installato ed è ancora in funzione oggi. Nonostante che a livello nazionale si dica che questi apparecchi sono stati sospesi perché irregolari, il Sindaco ha confermato che l'autovelox di Metauriglia è ancora in funzione, però i residenti lo vogliono spostare più vicino alla loro frazione, mentre il Sindaco ha l'intenzione di chiedere alla Prefettura che al posto dell'autovelox venga sistemato un tutor affinché il percorso, il tratto di strada controllato sia superiore rispetto a quello limitato invece dalla sfera d'azione dell'autovelox. Giriamo la pagina, vediamo un articolo di cronaca che ci viene da Piagge. Il bottino era sotto vuoto, trovato con 25.000 euro. Si tratta di un giovane che aveva posto di un 29enne, un 29enne di Piagge che è stato arrestato con l'accusa di spaccio di stupefacenti. Aveva posto 25.000 euro sotto vuoto, pensate, in una busta insieme a 4,5 kg tra marijuana e Ascis. Insomma li aveva ben conservati e li aveva privati di aria. Comunque gli inquirenti sono arrivati a identificarlo e a trovare in suo possesso questo bottino, un ricco bottino sequestrato dagli agenti della squadra mobile della Polizia. Vediamo anche la notizia di Urbino dove c'è una novità per quanto riguarda le cerimonie delle lauree brevi, nuovo cerimoniale in forma collettiva. Ebbene le lauree non verranno più consegnate in una cerimonia individuale che era più intima, magari era anche più emozionante per i nuovi laureati. Ebbene lo si farà tutti insieme come già avviene in altre università. Cambia la dinamica per la consegna dei diplomi per la triennale dove non è prevista la discussione della tesi. E questa è la novità che si è profilata. Vediamo le pagine di Pesaro dove abbiamo anche una replica dell'ex sindaco Matteo Ricci in ordine a quella polemica che ha visto due associazioni, due società ricevere dei soldi direttamente dall'amministrazione comunale. Matteo Ricci dice io di questa cosa non ne sapevo nulla, mi sono fidato dei dirigenti. Io non mi occupo di affidamenti, ha dichiarato Ricci, non l'ho mai fatto in 15 anni. La magistratura verificherà eventuali errori e responsabilità personali laddove emergessero. E intanto vediamo che l'onorevole Baldelli, Antonio Baldelli, in Parlamento ha chiesto che intervento degli ispettori. Sollecita ai ministeri le verifiche sul corretto impiego delle risorse pubbliche nel comune di Pesaro. E poi c'è l'attacco nei confronti di Ricci. Non è nuovo, ha detto Baldelli, a gestioni allegre. Sforò anche il fatto di stabilità. Vediamo anche altre notizie che riguardano la provincia di Pesaro, però insomma riguardano un po' anche tutta la nazione. Perché c'è una rivolta di coloro che vendono la cosiddetta cannabis light, quella che viene utilizzata anche a scopi farmaceutici. Ebbene c'è il Governo, la Commissione Affari Costituzionali e la Commissione Giustizia che hanno approvato un emendamento che vieterebbe la coltivazione e la vendita delle infiorescenze della cannabis, equiparando inoltre la cannabis con quantità di THC inferiore allo 0,2. Insomma sono quelle bustine di cannabis che vengono vendute fino a oggi liberamente nei negozi. Ebbene il Governo vieterebbe anche queste. Qui c'è appunto la sollevazione dei venditori che dicono così si blocca l'intera filiera, compresa la Cosmesi, solo per accontentare i proibizionisti. E c'è anche chi usa queste sostanze per usi medicamentosi. Happy Birthday per una insegnante d'inglese molto molto amata. Si tratta di Miss Cola, Anna Maria Cola, che ha passato cent'anni, e ne ha passati, pensate, settantaquattro dedicati all'insegnamento dell'inglese ai loro, ai suoi allunni. Ebbene, carismatica, ma che paura col suo Will you come to the blackboard? Insomma vuoi che ti metta nel registro nero? Insomma anche questo faceva un po' paura agli studenti, ma gli studenti l'hanno amata perché era un'insegnante che insegnava col cuore oltre che con la testa. E allora passiamo ora al Corriere Adriatico dove vediamo che l'articolo di apertura è dedicato a quanto accaduto a San Lazzaro aggredito, picchiato e rapinato di notte gli prendono il PC, portafogli e documenti. A San Lazzaro un cinquantenne in bicicletta vittima di due uomini a volto coperto indaga la polizia. E poi vediamo a fondo pagina il nuovo progetto dell'amministrazione comunale per Viale Dante Alighieri dove si ripristino i parcheggi. Quell'iniziativa molto molto contestata, assunta dalla vecchia amministrazione, contestata dai residenti ma lì c'era un contrasto, dobbiamo dire, perché i residenti volevano che i parcheggi fossero eliminati, gli operatori, i baristi, i ristoratori volevano che i parcheggi fossero invece lasciati. Ebbè c'è stato questo contrasto ma alla fine l'amministrazione comunale ripristina 14-15 parcheggi a secondo appunto della distanza che si riuscirà a ricavare. Anche il Corriere dà l'addio a Severi, innovatore nell'impresa, grande appassionato di auto d'epoca. E poi c'è anche la relazione dell'incontro che si è svolto a Metauriglia più sicurezza sull'Adriatica con marciapiedi e rotatorie. Metauriglia sulle opere compensative dell'Adriatic Link finanziate da Terna. Ebbè è questo che in sostanza è stato richiesto ma è stata richiesta anche un'altra cosa importante. Vi ricordate da quanto tempo a Fantasy World giace quella montagna di fanghi che sono stati prelevati dal porto di Fano dovevano essere messi lì a decantare per un anno forse, due. Ma quanti anni sono passati? Dieci, venti anni? Ebbene la Cassa di Colmata in Ancona ancora aspetta di ricevere. Ogni tanto si dice no abbiamo provato, abbiamo messo i soldi, abbiamo tutto pronto per spostarli ma quei fanghi rimangono sempre lì. E quindi sarà questa una degli incarichi che la nuova Giunta ha preso dalla vecchia ma anche l'autorità portuale insomma che può decidere e deve finanziare il tutto per risolvere il problema. L'assessore regionale Baldelli interviene sul rifacimento dell'asfalto per quattro chilometri sulla superstrada Fano Grosseto tra Calcinelli e Fossombrone. Nel corso del sopralluogo ieri mattina il Baldelli ha così ribadito quello che la Regione ha fatto in questo versante. Marotta, innamorati degli anni 80, stasera il concerto di Raff, pienone in piazza per Tracy Spencer, Ivan Cattaneo e i Rockets. Ebbene anche Marotta è una città molto viva, è vicino a Senigallia ma insomma mi dà una certa concorrenza con le sue iniziative. Marotta poi è anche un luogo molto amato dai cantautori. Passiamo a Senigallia dove si parla della finale del Summer Jamboree. Weekend da urlo, questo che si profila in questo fine settimana in hotel per due notti fino a 2.600 euro. Veramente gli operatori del sistema ricettivo stanno così avvantaggiandosi in maniera molto rilevante da queste manifestazioni. Il concerto della B-Town, Big Band, Ren Revue, Atmosfera Hawaiana, La Rocca, il corteo di auto. Sono diverse iniziative che corredono questo weekend da urlo così come è stato definito appunto dal Corriere Adriatico. Vediamo anche le pagine pesaresi del Corriere dove si parla della bonifica dell'exam. Anche questo è un problema che ogni tanto rimbalza sulla cronaca. Una cifra da capogiro, questa volta sono 4 milioni di euro che servono per effettuare l'intervento. La Multiservizi batte cassa al Comune per il problema delle falde inquinate. Altri 150 mila euro saranno necessari per intervenire sul risanamento idrico dell'area. Insomma è un progetto che necessita di molte più sostanze, di molte più risorse rispetto a quanto preventivato. Giriamo la pagina. Deluso dalla bocciatura delle mie proposte. Nelle motivazioni molte cose non tornano, ha detto Andrea Biancani per quanto riguarda il reparto della salute mentale dell'azienda sanitaria territoriale numero uno. Non c'è la volontà di trovare una soluzione reale. Ha detto il Sindaco di Pesaro che in qualità di consigliere regionale, prima di rivestire la carica di primo cittadino, si era occupato parecchio per quanto riguarda appunto una idonea ed efficace sistemazione del reparto di salute mentale di Muraglia. Una palazzina per uffici e magazzini dopo la demolizione del Naumacos, il cantiere Rossini ha chiesto al Comune la quinta variante al progetto di rinascita e sviluppo. Vedete come il cantiere navale Rossini progredisce e in trasformazione nella zona del porto. E poi ancora Urbino, ora il riequilibrio territoriale unendo le politiche comunali. Busca, Tiziano Busca, coordinatore del Partito Socialista, interviene sul ruolo di Urbino capoluogo per un nuovo sviluppo. E anche qui il ruolo di Urbino come provincia, il ruolo di Urbino come punto di riferimento per larga parte del territorio provinciale che fa riferimento nell'entroterra, viene consolidandosi sempre più in merito a tante proposte e a tanti interventi. E con questa notizia terminiamo la nostra rassegna stampa, dandovi appuntamento alle 7 di lunedì prossimo, sempre pronti per relazionarvi sulle notizie del giorno. Grazie per l'ascolto e a risentirci.